Together sin dall'inizio è stato un progetto che si propone di ispirare quindi tra queste mura sono entrate tante persone, tante storie ognuno quando è stato possibile ci ha lasciato un pezzo e ci ha raccontato qualcosa di lui abbiamo l'opportunità di averti qui oggi e credo che la tua storia possa essere davvero interessante per molte altre persone e quello che fai anche su internet lo dimostra perché ci sono un sacco di persone che ti seguono si lasciano consigliare anche, l'ho notato anche ieri sera che sono venuto a vederti nell'altra presentazione ci sono persone che non ti conoscono, lui si chiama Francesco Grandis conosciuto su internet come Wandering Wheel e questa sera è qui per presentare un libro che ha appena scritto che si chiama Sulla strada giusta, lei è Francesca, nota per il suo viaggiaredasoli.net, un'altra grande viaggiatrice raccontaci un po' questa cosa io ho avuto un percorso di vita un po' strano, un po' wandering appunto, un po' da vagabondo sono partito nel 2009 come un ingegnere elettronico e poi nonostante la mia posizione rispettabile, il contratto a tempo indeterminato tutta la situazione apparentemente perfetta, io ero infelice, fondamentalmente era di questo di cui si parlava un giorno quando ho raggiunto la crisi è successo questo evento con cui inizio il mio racconto ho accostato la macchina e mi sono messo a piangere e ho deciso che era finita e da lì in poi ho iniziato quella che è stata la mia ricerca della felicità non funzionava, io lì ho capito che volevo essere felice e che non mi interessava la strada con cui ci sarei arrivato potevo sceglierne altre, avevo il diritto di sceglierne altre di cambiare idea e di scegliere un altro modo per essere felice io ho fatto il giro del mondo da solo, zaino in spalla e questo mi ha permesso di crescere di capire che nella mia vita io volevo essere felice, il come arrivarci non era così tanto importante sono tornato a casa con un piano preciso che era quello appunto di trovare un modo di mantenermi perché dovevo farlo, ma a modo mio un modo che mi permettesse di essere libero di viaggiare e cercare la mia felicità, quindi sono diventato un programmatore nomade, un nomad worker e nei 4 anni successivi ho fatto molti viaggi, non sono stato mai un viaggiatore a tempo piano ho fatto molti viaggi bisogna cercare nello sconosciuto, nella novità, io lo dico nell'inaspettato dico che la felicità per me è come lo zaino perfetto dove c'è tutto il necessario ma niente di superfluo quindi uno zaino in cui hai tutti gli oggetti che mai ti serviranno ma non hai niente che ti appesantisce come un albero dalle radici profonde si prende una tempesta, forse qualche ramo si spezza ma rimane in piedi ecco quella per me è la felicità quindi alla ricerca di comporre questo zaino perfetto sono cresciuto e sono arrivato al punto di sentirmi pronto per il passo successivo che era la condivisione della mia esperienza sperando che ci sia qualcosa di buono per gli altri quando io l'ho conosciuto diciamo su internet pensavo che si trattasse dell'ennesimo travel blogger invece poi andando ad analizzare il blog e quindi leggendo alcune cose ho visto che tu alla fine scrivi di tutto tranne che di viaggi tu parli proprio della felicità e quindi di questa ricerca della felicità in base a come tu l'hai appunto cercata l'hai trovata? la sto cercando e sono sulla buona strada sono su una strada giusta abbiamo 80 anni su questa terra circa chi più chi meno nascere in un modo e morire nello stesso modo mi sembra un incredibile spreco di tempo allora io ho intervistato Francesco all'inizio appena aperto il suo sito perché sono appunto sempre alla ricerca di viaggiatori solitari e mi aveva colpito questo fatto che lui era uno dei primi in Italia che facesse proprio questo nomad working che poi adesso per fortuna stiamo facendo in più persone però adesso le brille che è rotto nel senso che da quando hai deciso di fare il libro hai detto che hai smesso di fare l'ingegnere cioè programmatore eh sì diciamo ho smesso di fare un mestiere nomade però di fatto quando ho cominciato a scrivere quello è ancora nomadizzabile se vogliamo puoi scrivere da dove vuoi nel mondo quindi adesso che ho una famiglia che è entrata nell'ultima parte della mia vita devo fare le cose con un filino più cautela ma l'idea di essere nomade rimane e infatti siamo qui con il camper tutti e tre e se non è nomade questo cioè non lo so ripreso il fascino del viaggio quel fascino tu sei anche un po' antico dei viaggiatori di una volta che partire non sapevi né quando arrivavi né se arrivavi te lo riprendi un po' mi piaceva l'idea di fare questo video con te perché tu fondamentalmente impersoni un po' la storia che tutti vorrebbero vivere fondamentalmente e questo è quello che tutti vorrebbero fare però nessuno poi alla fine lo fa sono pochi quelli che lo fanno e quindi qual è secondo te la cosa più difficile da superare che quindi anche gli altri potrebbero dover superare se decidessero di inseguire i propri sogni fondamentalmente liberarsi delle voci altrui perché quando uno sta male io dico sempre io non ho mollato lavoro perché sono stato coraggioso io ho mollato lavoro perché avevo paura ma terrore autentico per la vita che provavo io mi svegliavo tutte le mattine la prima cosa che volevo fare è tornare a dormire non sorridevo si può chiamare depressione ero infelice e nel momento in cui dici vabbè questa vita mi fa schifo vorrei andare da qualche parte ed è stiamo parlando di una fuga quindi non di una cosa di coraggio tutti gli altri dicono ma no ma sei sicuro ti vogliono tenere al loro posto liberarsi di queste pressioni è stata la cosa più difficile in assoluto posso farti una domanda dato che anche io ho fatto la stessa scelta e ho visto che mi hanno appoggiato persone diciamo dicono che mi aspettavo l'appoggio e criticato altre la tua famiglia quando tu hai fatto questa decisione era dalla tua parte o no? era dalla mia parte nel momento in cui avendo dimostrato di essere infelice mi ho detto no ok se questo lavoro ti distrugge mollalo però erano più fatti una vacanzina e poi torno a lavorare provatene un altro quando gli ho detto no io mi spendo tutti i soldi che ho per andare a fare il giro del mondo non erano tanto contenti ovviamente anche perché i miei appartengono a una generazione passata per cui il figlio ingegnere voglio dire è una bella realizzazione e però purtroppo anche loro facevano parte delle voci altrui di cui ho dovuto fare a meno nel senso che qualcuno a cui te nevi tanto non ti ha appoggiato o solo a me no è successo è successo la razionalità sa quando staccarsi molla e vai a giocare con i pennerelli brutta pirla e lì scopri quelle cose meravigliose che appunto magari il controllo ti preclude enti visto che c'è anche lei quanto è stato importante farlo da solo inizialmente poi ti sei accompagnata durante il percorso tantissimo io sono un sostenitore del viaggio da solo se possibile anche io lo sono però voglio dire da te siamo tutti e tre tutti e tre perché quello che provi nel bene o nel male è più forte quindi certe sensazioni certi pensieri non li puoi fare non li puoi avere se sei in compagnia ma che cosa ne pensa la tua compagna di questa vita e come c'è nel senso l'ha incontrato questo percorso l'ha incontrata quando sei tornato a casa e è abbassato verso verso la fine del percorso ci conoscevamo già ma poi è successo che è nato un bambino anche così e lei è un po' penso di poter dire che è un po' intimorita da questa vita perché di carattere non le apparterebbe però le piace l'idea di farsi trascinare quindi per esempio infatti è qui con me con la stessa maglietta del tour lo fa con me molto volentieri mi hai convinta più che altro no ma convinta sembra quasi che lei non fosse d'accordo e che io l'abbia convinta in realtà no una tintarella perché credo che non dico chi viaggia da solo ma in generale chi viaggia tanto e qua ne ho due di fronte si trova spesso nella situazione di boh a me capita un sacco di volte comunque di o limitarti o aver paura che qualcun altro possa limitarti assolutamente e poi le persone che incontri hanno paura del fatto che tu sia così indipendente da poter fare tutte queste cose questo è vero e quindi sto cercando il giusto compromesso qualcosa che non tolga niente a me che non faccia soffrire loro e contemporaneamente che ci mandi tutti quanti lungo un bel viaggio insieme potremmo aprire veramente un discorso romantico di relazioni e cose però non ci abbiamo tempo nel prossimo prossimo video va bene grazie francesco se volete leggere il libro vi metto il link nella descrizione tanto si trova su amazon ok grazie la strada giusta grazie 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 a tutti.